Allora, siamo pronti o no? Aspettative? Non saprei. Non saprei. Tornare a casa. L'importante è quello, poi, minimo 50 km. No, perché ragazzi, voi non c'eravate l'altra volta, ci siamo quasi dispersi nelle foreste dolomitiche. Io sono arrivato col favore delle tenebre. Io mi energizzo così. Vale, sei pronta? Sei carica. Ila? Nata pronta. Nata pronta. La Ramona nel silenzio della calma? Super pronta. Io ho tre ore di sonno, quindi non rispondo delle mie azioni. Ah, guardalo, guardalo. Cioè, ma ragazzi, ma per trovarlo questo è proprio sulla strada. C'è un parcheggino. Oh, vedi, vedi, iniziamo a immertersi nella natura. Allora, Monio, noi qui stiamo parlando solo bene di te che hai pacchato alle 7 e un quarto, nonostante che alle 7 ti avessi chiamato, mi avessi buttato giù e quindi ero fiducioso di ritrovarti. Niente. È una bella camminata per ora. Adesso stavo rispondendo di morire. Adesso la Ramona ti saluta. Lui veniva, no? Vieni qui. Ti saluta. No, Monio. Perché ti sei dormitato anche questa volta? No, buono. Perché non è la prima, è la seconda. Vai, Vale. Vieni che siamo a metà, Ila? Mi vedi affascata. È una rosa. Ti vedo sudata. Sono emozionata per quello che... Vuoi dire qualcosa ai tuoi follower? Non ho nulla da dichiarare. Vai, là. Questa non è finzione, eh? Questa non è finzione. È stanchezza. Si vede. Mi vede. Sietta tosta ma, mi è valsera bene. con i ragazzi? come si è messi? bene! possibilizzazione? adesso siamo arrivati al rifugio del furlo abbiamo mangiato abbondantemente era un rifugio serrato serrato chiuso si rifugio è quello lì ragazzi però c'è un bello spiazzo si mangia bene bene i miei panini erano buoni mi stavo per uccidere con un ramo dietro di me ed eccoci che siamo arrivati siamo tutti presenti non abbiamo perso nessuno nella camminata mi è piaciuto molto è stato un po' impegnativa l'andata la salita però è tutto ripagato allora ci siamo divertiti oggi? bellissima giornata tornerete? bene lui sta già studiando il prossimo percorso qua nella zona va bene dai salutate dai ciao ragazzi ciao ciao